Io con la scomparsa di Andrea non centro niente. Simone Gresti ha costantemente mantenuto questa posizione riguardo ad Andrea Rabciuk, la ragazza romena di 27 anni scomparsa il 12 marzo 2022 da Monte Carotto, Ancona, e ritrovata morta nel gennaio scorso in un casolare abbandonato a Castelplanio, vicino al luogo della scomparsa. Nonostante l'ipotesi principale della morte di Andrea sembri essere il suicidio, Gresti resta sotto indagine nell'inchiesta in corso. Sono ipotizzati contro di lui vari reati, tra cui omicidio volontario, sequestro di persona, istigazione al suicidio e detenzione di droga. Recentemente il magistrato ha ottenuto che Gresti venga posto agli arresti domiciliari per un altro reato contestato, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella richiesta si menzionano anche presunti maltrattamenti verso Andrea, ma il giudice non ha emesso provvedimenti in merito. Al ritrovamento del corpo di Andrea, il fidanzato si è dichiarato nuovamente innocente. La vicenda rimane avvolta nel mistero. La sera dell'11 marzo 2022, Andrea si trovava a Monte Carotto con Simone Gresti e altri due amici, un uomo e una donna. Il gruppo ha trascorso la notte in una roulotte parcheggiata nel giardino di un casolare diverso da quello del ritrovamento. Gresti ha raccontato di essersi allontanato con l'amica per andare a prendere delle birre durante la notte. Andrea e l'altro amico sarebbero rimasti soli nella roulotte. Al suo ritorno, Gresti sostiene che sia scoppiata una discussione tra lui e Andrea. Secondo il fidanzato, si è trattato di un semplice diverbio. Dopo questa lite, intorno alle sette del mattino, Andrea si sarebbe allontanata da sola a piedi e non è stata più vista. Il telefono della ragazza è rimasto nelle mani di Gresti, affermando che Andrea glielo ha lasciato. Alcuni messaggi dal cellulare sarebbero stati cancellati sempre secondo la sua versione. Altri messaggi sarebbero stati cancellati dal telefono di Gresti. Contenevano forse il motivo della loro lite. Quella notte, Andrea ha contattato almeno altre due persone. Prima di tutto il suo ex fidanzato, Daniele Albanesi, con cui aveva ancora un rapporto. In quel momento, Daniele era altrove in compagnia di un altro amico di Andrea, Omar Carlin. La giovane ha inviato un messaggio anche a suo padre, che vive in Romania, la sua terra d'origine, alle 4 e 30. Mi sono messa nei guai, gli ha scritto. Suo padre stava dormendo a quell'ora. Cosa intendeva dire Andrea? Aveva paura di qualcosa? Dalle indagini è emerso che Andrea aveva intenzione di cambiare vita e di allontanarsi da quel gruppo di amicizie che ultimamente l'aveva messa in cattiva luce. Si era anche confidata con un altro gruppo di amici romeni, parlando in particolare dei tre uomini con cui aveva una relazione, il fidanzato Simone, l'ex fidanzato Daniele e l'amico Omar. Secondo quanto riferito dagli amici romeni, il 9 marzo 2022, tre giorni prima della scomparsa, le avevamo fatto capire che non avrebbe dovuto frequentare persone di 40 anni. Di Simone diceva che era violento e che chiamava sua madre Zingara rumena. Andrea era attratta da Daniele anche se diceva di essere sfruttata da lui, da Omar e anche da Simone. Continuano. Andrea ci aveva detto che Simone e Omar avevano contatti con spacciatori marocchini. Li aveva visti in un parco dove Omar l'aveva portata un giorno. Spesso la costringevano a usare la droga per prima e poi ne facevano uso loro. Il 9 marzo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci aveva detto una frase che ci ha preoccupato. Prima o poi mi faranno fuori. Con gli arresti domiciliari recentemente ordinati contro Gresti, il tema della droga torna a essere centrale in questa vicenda. La tragica fine di Andrea potrebbe essere legata al mondo degli stupefacenti dal quale la ragazza voleva allontanarsi.